Quanti pezzi è l'ora? Quattrocento? Sì, non farei una terrena di pezzi l'ora qua, manualmente. Allora, pezzi non è preasemblato? Non preasemblato, 230 pezzi. Tu? 230 pezzi. Non prese, non è tanto. Non prese, non è tanto. Pensa di più. Si, si può fare di più. Pressione, ma è più o meno... Questa cadenza è di più. Sì. Lui preferiamo per prendere. Sì. Rota automatizzata. Sì. 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 Sì.